Di Maria lascia senza parole Peredes, domanda sulla Juve inaspettata. Di Maria e Peredes si sono sfidati sul canale YouTube della Juventus mettendosi alla prova sul rispettivo grado di conoscenza e, più in generale, sul mondo del calcio a tinte bianconere. Ma non solo. Con tanto di cartoncino alla mano. Stile Sanremo, i due calciatori si sono divertiti interrogandosi a vicenda con domande a cui dare risposta entro il limite di 7 secondi. A vincere il duello è stato Peredes con 7 risposte esatte contro le tre date dal compagno di squadra e nazionale. Di Maria, che scivoloni! Peredes la ride e vince il duello social veloce in campo. Decisamente meno nel quiz. E il fideo è partito malissimo. Peredes gli ha chiesto di nominare 5 calciatori che hanno vinto un mondiale e giocato nella Juventus. Di Maria ha fatto scena muta menzionando solo Buffon a tempo scaduto per poi chiedere a Peredes, ma io e te valevamo. E giurisate. Non gli è andata meglio quando è stato il momento di nominare i 5 argentini che hanno giocato nella Juventus, Iguain. Di Bala, Di Maria, Peredes e... A tempo scaduto Peredes lo ha schernito, hai dimenticato Tevez. Nessun dubbio sul superpotere che vorrebbe avere, essere velocissimo come Flash, prima di un nuovo clamoroso scivolone. Nomina 5 città italiane. Di Maria si è incartato, Torino, Roma, Palermo e... Punto. Stop. Irrefrenabile il divertimento di Peredes a cui Di Maria ha risposto, 7 secondi sono troppo pochi per me. Di Maria ha toppato anche quando è stato invitato a elencare le squadre in cui Peredes ha giocato, Roma. Empoli, PSG, Juventus e Zenit. E Peredes, che è finito al centro di una serie di polemiche per un post su Instagram dedicato proprio a uno dei club mancanti a risposto, il Boca. Niente asado come piatto preferito di Peredes, sono le patatine fritte a cui è poi passata la virtuale palla. Decisamente più reattivo nel citare, dopo un momento di esitazione, Padone per dribblare la domanda su tre centrocampisti che hanno giocato nella Juventus, hai studiato o commentato incassando il colpo Di Maria. Peredes lo ha di nuovo stupito sapendo rispondere anche alla domanda sulla serie TV preferita di Di Maria, la casa di carta. Qualche semaforo rosso sulle domande relative ai custidi di Di Maria ma alla fine è stata lui a spuntarla. Virgola.